Musica Dopo meno di un anno dal suo insediamento a Taranto, il prefetto Antonella Bellomo ha voluto salutare la cittadinanza tarantina in una cerimonia che si è svolta nel salone di rappresentanza della prefettura locale, prima di trasferirsi al comando della prefettura di Bari. L'insediamento è previsto per il 7 gennaio, infatti a Taranto subentrerà già da oggi il nuovo prefetto, il dottor Demetrio Martino. Taranto è una città bellissima, che ha grandi potenzialità e che certamente può esprimere tanto per lo sviluppo di questo territorio, per la gente di questa provincia, che ha tante eccellenze, spesso non valorizzate. L'augurio veramente è di riscoprire le proprie eccellenze, di valorizzarle e di poter emergere con un volto nuovo, che non sia solo il volto della città industriale, che sicuramente è stato importante per Taranto, ma che sia anche il volto di una città accogliente, che ha accolto le navi degli immigrati con grande entusiasmo, una città ricca, luminosa, che abbia la possibilità di accogliere anche i turisti, anche chi vuole venire a visitare le bellezze. Non ho nominato il museo, che è una cosa veramente eccezionale, come il castello, come tutto il territorio del Mar Piccolo. Lascio il Taranto con un senso di incompiutezza, perché mi sarebbe forse anche piaciuto potermi dedicare ancora un po' di tempo a questo territorio, a scoprire anche angoli che non sono riuscita a vedere. Non vado molto lontano, quindi spero di poterci tornare. Da Bari manco da circa nove anni e quindi certamente la realtà è cambiata, è una realtà diversa e l'approccio sarà comunque quello di ascolto, di attenzione.